Per questa ricetta serviranno 150 g di farina di cocco, 180 g di latte condensato, nutella quanto basta, farina di cocco quanto basta. Metto nella ciotola la farina di cocco e latte condensato. Lavoro con la spatola fino a quando ottengo un composto compatto. Ho lavato le mani e le ho lasciate leggermente umide per poter maneggiare bene l'impasto. Prendo poco impasto e appiattisco con le dita. Al centro metto mezzo cucchiaino di nutella, richiudo e formo una pallina. Passo nella farina di cocco. Procedo in questo modo fino al termine dell'impasto. Cari amici, i tartufi al cocco sono pronti, sono proprio golosissimi. Cocco ripiena un morbido e goloso di nutella. Consiglio di provarli perché sono troppo buoni. Noi ci vediamo prestissimo con tante nuove ricette. Ciao a tutti!